Dopo dei 40 minuti a cambiare l'atteggiamento, semplicemente abbiamo moltiplicato il primo tempo per un'altra volta e dopo 8 palle perse nel primo tempo abbiamo aggiunto altre otto nel secondo, dopo 7 rimbalzi in attacco degli avversari nel primo tempo abbiamo aggiunto altri 6 nel secondo, perciò è stato un 40 minuti malgrado buon auspicio e un Naimi ai livelli giustissimi, abbiamo perso su quei 16 palloni addirittura 11 dai lunghi e lì abbiamo per per un'altra volta non ho tenuto quello che doveva. Grazie. 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 Grazie.